Viva Locarno! E questa sera ripartiamo con tutta la magia del Locarno Film Festival. È come un sogno. Buon festival. Locarno 74, ritorno. Il cinema in piazza grande. Scusate, sono emozionata, veramente è una visione meravigliosa. Sono molto emozionato. È molto felice di essere qui. Buon giorno. Buon giorno. Buon giorno. Buon giorno. Buon giorno. Ciao. Grazie per noi. Grazie, Locarno. Ciao, Locarno. Sono molto felice. Ciao, Locarno. Buon giorno, Locarno. Buongiorno la premiera svedese del mio nuovo film. O, aspettiamo, in Svizzera. Come darei? Buon giorno. Locarno mette i film e il cinema al centro di tutto. Ciao, Locarno. Buon giorno. Buon giorno, Buon giorno. Buon giorno. Buon giorno. Cosa, mi rinom è davanti di macchina. è il motion picture. E' la storia individuale che farà davvero la differenza. Ho fatto una cosa che faccio in molti film, che è matare le persone. C'è stato fatto? Un saluto a lo Carlo. Il cinema è pratico per un lungo tempo. C'è stato bene? Questa è la persona che crea la specie per la magia. I hope you enjoy the show. Who is this old man? Oh, so depressing. Hello, Locarno. Thank you for inviting me. Buon tutto. Io sono Piazza. Grande! Grazie, Locarno. I'll be back. 도adico. Bonば No, non. E' stato un ruolo di stampare. C'è stato un ruolo di stampare. È un ruolo di stampare. Grazie a tutti.